Arbo da rilasso lento, frutto ai miracoli in allenamento Mi sale l'energia, energia, energia, e-e-energia, energia, energia, e-e-energia, energia, energia Che esplode dentro ad ogni buona caloria, mi sale l'energia Non dovete fare proprio come hanno fatto loro e come abbiamo fatto noi perché noi abbiamo gli strumenti, abbiamo uno spazio dove lavorare però basterebbe solo scrivere un testo e inviarlo Mi raccomando, partecipate!